Purtroppo ormai da lunedì scorso la farmacia è stata trasferita dai locali dell'ex presidio ospedale di Sant'Arsenio al distretto di Sala Consilina. Noi come gruppo consigliare di minoranze Sicampia del comune di Sant'Arsenio ci siamo interessati subito, anzi già in campagna elettorale da parte nostra. È stata fatta una denuncia pubblica in cui avevamo avuto già notizie, anche se era solo in embrione queste notizie, che poi si sono trasformate in realtà purtroppo dopo la fine di luglio con una delibera da parte dell'Asl Salerno a discrizione, a firma dal direttore generale e dal direttore sanitario in cui diceva che purtroppo la farmacia andava trasferita nei locali dell'ex tribunale di Sala Consilina. Noi abbiamo informato pubblicamente la nostra popolazione anche con un manifesto a fare chiarezza su questa cosa, però purtroppo siamo stati smentiti non solo in campagna elettorale, ma anche e soprattutto quando questa è diventata realtà con una delibera a fine luglio in cui il direttore generale dell'Asl Salerno Giordano, insieme al direttore del distritto che lui è il proponente, appunto ha fatto sì che queste notizie diventassero realtà in cui questa delibera, proprio questo metteva in evidenza il fatto del trasferimento della farmacia dal presidio ospedale di Sant'Arsenio a quello di Sala Consilina. Noi abbiamo cercato di mettere in evidenza soprattutto questa notizia, però non solo con l'informare la popolazione con un manifesto, però siamo stati puntualmente smentiti dall'attuale sindaco, dottor Donato Picca, sia durante la campagna elettorale in cui ha detto pubblicamente che la farmacia non andava via, ma soprattutto quando c'è stata questa delibera e il dottor Donato Picca in un'intervista, mi sembra di aver capito, proprio presso la vostra emittente, ha messo in evidenza che se questo avvenisse, lui da solo, anzi personalmente, avrebbe preso, intrapreso delle azioni legali contro l'Asl per questo vicente. Io, non finisce qua, la nostra azione come gruppo di minoranza si cambia, perché anche nell'ultimo accesissimo, direi, consiglio comunale tenutosi la fine di settembre, abbiamo parlato e abbiamo voluto che si parlasse appunto di questa problematica della farmacia distrettuale. Noi ci teniamo come gruppo consigliare si cambia, anche perché la nostra scelta politica e la trasparenza e la condivisione, proprio sulla base della nostra ideologia politica, abbiamo fatto mettere al verbale un incontro pubblico con non solo i vertici dell'Asl, ma anche e soprattutto con la cittadinanza. Ripeto, un incontro pubblico e non un consiglio comunale, in cui anche il comune cittadino potesse intervenire in senso concreto a questa vicenda, oltre a essere informato nei dettagli, cosa che purtroppo non è avvenuta, cosa che purtroppo, ahimè, i dati sono questi, la farmacia è stata appunto trasferita, nonostante il nostro sindaco, pur condividendo questa scelta politica, non è stata purtroppo messa in essere. Dottor Pandolfo, allora quale sarà il futuro dell'ex ospedale di Sant'Arsenio? Bellissima domanda, anche se io personalmente ho seguito in maniera diretta e indiretta, sembrerebbe che è proprio una delibera di ieri, in cui sono stati stanziati 700 mila euro, proprio per la riqualificazione dell'ex presidio ospedaliero di Sant'Arsenio. Certo, spero che anche in questo non sia la parte politica, quella contraria a me, a prendersene merito, perché è stata soprattutto la vecchia amministrazione, ma non tanto la vecchia amministrazione, quanto soprattutto i sindacati, e mi dispiace, dobbiamo fare i nomi, soprattutto la CGL, ma anche la CIS, la UIL, la FIALS, il Comitato Curo. A me personalmente hanno dato tre lettere in cui si sono fatti promotori di questa riqualificazione dell'ospedale di Sant'Arsenio e hanno seguito i progetti proprio in essere. E quindi grazie a questi, forse adesso qualcosa cambierà e forse l'ospedale di Sant'Arsenio abbia, io spero, una riqualificazione concreta.